Marta ha fotocopiato l'intero fascicolo di Ernesto Tigna anche se a loro l'indirizzo sarebbe bastato ci serve un piano, dice Sandro alla guida dell'auto ci serve solo un po' di fortuna fa Mike seduto accanto a lui mentre tiene il telefono cellulare con entrambe le mani intento a seguire le indicazioni stradali temi che non sia in casa o che non sia lui? no, vorrei solo che il piano andasse per il meglio e allora pensi di dirlo anche a me bisogna rovinarlo da solo meglio non parlarne, mi diresti di lasciar perdere e non abbiamo alternative alternative a cosa? si può sapere di che stai parlando? domanda Sandro dobbiamo parlargli con la loro stessa lingua ok, dice poi cambiando discorso il navigatore dice che ci siamo alza la testa si guarda intorno punta l'indice davanti a sé e fa la casa dovrebbe essere quella l'altro ferma la macchina il tuo piano cosa dice di fare adesso? adesso aspettiamo non li vedi i film? mica possiamo andare al campanello e chiedergli se per caso ha rapito mio figlio arriverà il momento buono quando? quando arriva, dice Mike te ne accorgi sempre e il momento buono arriva meno di un'ora dopo quando l'autobus della scuola lascia scendere un bambino con zaino e cappello e va via avrà dieci anni pensa Sandro il piccolo imbocca il vialetto di quella casa aspettami qui dice Mike lanciando il telefono sul cruscotto ti faccio segno io che cosa? dice l'altro ma non riesce a finire la frase che quello ha già sbattuto lo sportello per precipitarsi a grandi passi verso l'innocente che ha davanti subito lo raggiunge lo afferra poi faccendo al complice di scendere dall'auto Sandro si avvicina con gli occhi sbarrati e balbettando gli chiede che vuoi fare? tu pensa a fare la tua parte dice Mike adesso bussa Sandro suona al campanello la porta si apre e l'uomo dall'altra parte in vestaglia è sorpreso si aspettava il figlio evidentemente e non quel tale incompleto scuro che non gli dice una parola gira solo la testa in direzione del prato è un movimento involontario e l'altro altrettanto distinto esce e guarda a sua volta e quello che vede supera il suo stupore supera anche la sua capacità di immaginare il peggio c'è suo figlio sul prato con lo zaino di ritorno dalla scuola come tutti i giorni ma dietro di lui c'è un uomo che lo cinge con un braccio all'altezza del petto e non lo lascia e non lo lascia muovere il bambino è muto immobile come solo l'orrore può rendere l'orrore della lama sul collo piccola e fredda che pizzica la pelle no no fa il padre alzando le mani in un movimento incongruente Mike dice Sandro aspetta un attimo non c'è bisogno dov'è mio figlio dice Mike ma l'uomo non risponde è rimasto con la bocca aperta lo sguardo fisso non riesce più a muoversi Mike riprende Sandro avvicinandosi a passi impercettibili fermiamoci un attimo noi non siamo così dov'è mio figlio grida con una forza tale che se l'altro fosse davvero di ghiaccio come sembra si sgretolerebbe poi esausto chiude gli occhi due lacrime scendono sulle guance e diventano due rivoli Sandro lo raggiunge lo disarma con un movimento cauto manetto libera il bambino dandogli una spinta decisa verso suo padre che lo abbraccia e piange a sua volta però tu non ci hai ancora risposto dice Sandro all'uomo in vestaglia eh dice quello frastornato stringendo il bambino con più forza dov'è suo figlio? chiede ancora Sandro dove l'hai portato? vi dico tutto 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 quello che so allora dov'è? questo non lo so io non centro in questa storia però le chiavi le hai prese non le ho prese io ma qualcuno le ha prese e l'hai aiutato tu mi avevano detto che era per fare uno scherzo a casa del signor Silvestro uno scherzo sì come si fa le feste a sorpresa insomma eravamo a una festa si conoscevano tutti per me era la prima volta ma ho pensato che per loro per voi fosse una cosa normale una cosa normale dice Sandro incredulo poi domanda chi ha preso le chiavi? non lo so non li conosco lì chiede Sandro quanti sono? sono in due l'altro non era alla festa come li hai conosciuti? erano in agenzia quando ho fatto il provino mi hanno avvicinato e mi hanno detto che ci saremmo rivisti alla festa e che quella sarebbe stata una prova di recitazione in che senso? per me per entrare in sogni che si avverano come sono fatti? insiste Sandro almeno questo lo saprai sono due uomini non troppo alti capelli corti castani uno aveva gli occhiali da vista? chiede Sandro no da sole l'altro aveva la barba l'identikit di mezza città dice Sandro che abbraccia l'amico e aggiunge coraggio andiamocene poi rivolto all'altro fa tu sparisci e quello come se avesse ricevuto il più sacro degli ordini torna dentro in due falcate col bambino in braccio e richiude la porta di casa ehi fa ancora siamo insieme io non mollo e tu? Mike sta piangendo ma a quelle parole solleva lo sguardo verso l'amico e risponde neanche io bene allora saliamo in macchina e che facciamo? ci verrà in mente qualcosa andiamo via da qui grazie a tutti 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 grazie a tutti